Ma perché non risolvete il taxi all'albergo? Siamo già in ritardo, lo sai che stai fuori domenica odiano che si arrivi in ritardo. Ci sono taxi dappertutto in Milano, non c'è problema. E tu cosa ne sai? È tutto. La moda, Rizzotto, Beledone. Taxi! Buonasera, igold è il piazza risorgimento. E per favore un po' in fretta che siamo a po' in ritardo. Grazie. Ehi, come sei? Ehi, ti fai? Ehi, ti fai, ti fai, ti fai, ti fai, ti fai. Ehi, ti fai, ti fai, ti fai. Scusi signorina, questo è il mio primo giorno come tassista a Milano. Io non sono di Milano, non conosco bene la città. Ma non si preoccupi perché ho la cartina. Questo non è possibile oggi. Non è possibile. Scusi, ci può costare perché magari è meglio prendere un testista che conosca Milano. Ma non si preoccupi signorina, in cinque minuti ci siamo, eh. Non si preoccupi, si fidi o la cartina. Guardi che piazza di esogimento è dall'altra parte, vicino di Ale Bianca Maria. Non si preoccupi signorina, io ho la cartina e so perfettamente dove sto andando. Lei è confessato che stiamo andando, stiamo a dayversa nell'avorto mi spigliate di torele Ernest. Scusi signorina, lo aspettati che bisogna il mio passo, non lo sa. Don't sing love. A far lavori, a far lavori, come even essentia' Scusi, non lo so. Scusi, non lo so su dove stiamo andando. Calma! 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 Hai ragione, pomerino! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non c'è più nessuno! È stata la serata più romantica della mia vita! Grazie! Andiamo a letto? Andiamo!